Nella splendida cornice del castello dei Biscari de Cate si concludono questi incontri formativi che hanno visto protagonisti tutti i comuni della provincia di Ragusa, incontri volti ad informare su quelli che sono i finanziamenti del progetto Resto al Sud. Tirando un po' le somme, cosa avete trovato in questi incontri e soprattutto quali sono i risultati ottenuti? Oggi noi chiudiamo un cerchio che avevamo aperto il 19 di dicembre a Caramonte, abbiamo toccato effettivamente tutte e 12 i comuni della provincia, abbiamo trovato dappertutto interesse rispetto a questa iniziativa perché sicuramente sia fra le imprese associate e non associate e anche fra i giovani a cui si riferisce il bando di cui parlava lei, Resto al Sud, abbiamo trovato molto molto partecipazione e alla fine io sono uno a cui non piace dare numeri roboanti ma effettivamente complessivamente in queste 12 assemblee abbiamo potuto parlare con più di 400 persone, 400 per buona parte rappresentanti di imprese ma anche tanti giovani perché questi seminari hanno avuto un doppio target di riferimento da una parte i giovani per quanto riguarda il bando di Resto al Sud ma anche le imprese già esistenti per quanto riguarda i voucher per la digitalizzazione, l'ultimo bando che sta uscendo sulla internazionalizzazione, la questione dell'alternanza scolavoro, il credito imposto sulla pubblicità sui massi media. Abbiamo trovato molto interesse, è una formula nuova e è la prima volta che noi adottiamo questa formula che va oltre quello che è stato finora il fatto di informare le aziende molto spesso, il fatto che è avvenuto via mail o con riunioni sporadiche, invece noi non abbiamo, o anche riunioni di zona, non abbiamo voluto lasciare nulla di intentato, siamo andati in tutti i comuni, al di là che naturalmente ci sono comuni più grossi in cui abbiamo avuto una presenza maggiore e il comune più piccolo, ovviamente, però non abbiamo voluto tralasciare nessuno. Rimaniamo rafforzati sull'idea che queste esperienze le dobbiamo rinnovare anche per il futuro, sicuramente ci saranno occasioni magari ogni 3-4 mesi per poter andare in tutti i comuni ed illustrare altre opportunità che ci potranno essere, speriamo che ce ne siano sempre di più per le imprese e anche per i giovani. Da questo giro che abbiamo fatto abbiamo anche avuto modo di poter chiaramente informare le imprese, perché i giovani, perché questo è l'obiettivo, ma anche poter poi a margine, a latere, poter parlare, dialogare anche alla fine delle riunioni, prima di cominciare le riunioni e ascoltare anche altre esigenze, altre problematiche, cose che ci rafforzano poi nella nostra attività successiva, anche capire effettivamente quali sono le esigenze, proprio come si dice, vis-à-vis le esigenze delle imprese, eccetera. Questa sicuramente è un'esperienza molto positiva, siamo stati nei fatti una compagnia di giro che ha girato tutti i comuni, anzi sotto questo aspetto voglio ringraziare, a parte naturalmente il Presidente Santogono che ci ha fatto compagnia per la maggior parte delle serate, ma anche i colleghi che si sono sobbarcati di questo impegno che ha riguardato anche la settimana fra Natale e Capodanno e anche la settimana fra Capodanno e l'Epifania. E quindi in particolare i colleghi dell'Unifidi, Alessandro Sascaro e Daniele Filippello che hanno parlato di Resto al Sud, Donatella Cutello che ha parlato del voucher per la digitalizzazione, la collega Laura Alessandrello che ha parlato dell'alternanza scolavoro e di internazionalizzazione. Credo che insomma sia stata una squadra che si è presentata in maniera affiatata, abbiamo anche cercato di valorizzare le professionalità che abbiamo al nostro interno, ce ne sono altre e le metteremo alla prova per le prossime occasioni. Proprio da Cate si conclude questo ciclo di incontri informativi rivolti ai giovani, rivolte alle imprese, l'obiettivo è quello di far conoscere le agevolazioni anche per avviare una nuova impresa con l'obiettivo di rimanere qui al Sud, un'opportunità importante. Ma questa è la vera e grande battaglia della politica di oggi, noi sappiamo che purtroppo moltissimi giovani abbandonano la Sicilia, io conosco anche la realtà di Cate, parecchi, molti giovani lasciano a Cate la provincia di Ragusa e la Sicilia per andare a cercare fortuna altrove. Io sono il sindaco di Cate, di una delle comunità più prospere, più dinamiche si può dire della Sicilia, con un territorio dove ci sono delle eccellenze mondiali nel campo agroalimentare e vitivinicola, ma non solo, anche nel campo delle imprenditorie. Nonostante tutto, molti giovani abbandonano. Io lo dico da tanto tempo e condivido in pieno l'azione costante della CNA, tant'è vero che nell'ultimo documento che ho scritto ha detto CNA Ragusa, Docet, cioè la CNA di Ragusa sta insegnando, educando le nuove generazioni a dialogare, a parlare, ad apprendere il linguaggio dell'Europa. Non c'è alternativa, dobbiamo approfittare di questi incentivi, di ciò che può avvenire dall'Europa per fare in modo che i giovani restino nel nostro territorio, che ha grandi potenzialità ma che troppo spesso noi non siamo in grado di sfruttare. Io mi auguro che questa meravigliosa iniziativa della CNA venga seguita da altre, che i giovani accolgano e recepiscono l'appello, il messaggio della CNA perché è l'ultima spiaggia che è rimasta a tutti noi. La CNA di Ragusa è attenta a informare costantemente le imprese sulle attività di internazionalizzazione proprio perché vogliamo che le imprese possano sempre incrementare il loro livello di internazionalizzazione ed essere più competitive sui mercati in generale. Cogliamo l'occasione proprio attraverso questi seminari per far conoscere una prossima pubblicazione di un bando da parte della regione siciliana che coinvolgerà un certo numero di imprese perché è stata prevista una dotazione finanziaria di 16 milioni di euro ed è rivolta proprio a coloro che vogliono realizzare incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione. Quindi chiunque abbia un bel progetto di investimento nel campo dell'internazionalizzazione e quindi vuole accedere ad un mercato estero può già pensare di ottenere un contributo che può andare fino all'80%. Possiamo in pratica arrivare ad ottenere 100.000 euro se l'impresa si presenta in forma singola e 200.000 euro se si presenta in forma associata. Quindi è giusto informare le imprese. La CNA, la nostra associazione, si mette a disposizione delle imprese, li vuole sempre supportare nel presentare e realizzare questi progetti. Sono progetti abbastanza ambiziosi e quindi vogliamo appunto informare al meglio che ci sono queste opportunità. È possibile rivolgersi agli uffici della CNA per chiunque ne avesse bisogno? Sì, noi abbiamo appunto uno staff all'interno della nostra associazione che opera e sostiene appunto le imprese. Chiunque può rivolgersi a noi sarà assistito, supportato in tutte le attività che inerenti appunto alla presentazione del progetto. Noi siamo sempre disponibili quindi è giusto farlo anche sapere attraverso questi incontri. È stata sicuramente un'esperienza particolare, bellissima. Siamo stati in 12 comuni della provincia, appunto tutta la provincia di Ragusa. Abbiamo incontrato più di 300 imprese. In un momento in cui appunto si sta sui social e quindi si cerca di non magari incontrare veramente le imprese. Noi abbiamo fatto esattamente il contrario, siamo andati a trovare le imprese a casa loro. Abbiamo fatto le nostre proposte, li abbiamo invitati a tener conto di queste opportunità che si sono presentati e a sfruttarci, tra virgolette, a pensare alla CNA come un modo per prendere queste opportunità, per utilizzare queste opportunità e sfruttarle al meglio. In questi incontri cosa è emerso? Qual è il quid in più che vi ha fatto capire che forse qualcosa nonostante il periodo che stiamo vivendo può dare la speranza per un futuro? Le opportunità, le opportunità, anche se poche, anche se magari non voglio dire scarse, nel senso per esempio sui voucher della digitalizzazione che era quello che io presentavo, in effetti ci siamo accorti che la parte riservata alla regione Sicilia per utilizzare questi voucher forse un po' bassina, data la vastità di quello che si può comprare, però iniziare a cambiare rotta, a pensare positivo su queste cose, veramente anche se fosse poco, anche comprare un computer per impresa, però iniziamo, questo è quello che è emerso e abbiamo cercato di dare positività alle imprese in un momento in cui ovviamente di positivo c'è quasi ben poco.